Benvenuti, siamo con il professor Angelo Mirante, docente di chitarra presso la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. Benvenuto. Buongiorno Fabio. Professor Mirante, l'educazione musicale a scuola è sempre stata vista come una materia complementare, possiamo dire di poca rilevanza. Oggi la musica ha avuto una profonda rivalutazione per tutti gli effetti benefici che produce, dallo sviluppo della creatività agli effetti sulla salute. Lei che incontra quotidianamente i suoi allievi in classe, ci dice qual è il rapporto con la musica dei giovani, soprattutto in ambiente scolastico? Allora, in effetti la materia della musica è qualcosa che si insegna a scuola ma è presente in tutte le nostre giornate, Fabio. e sviluppa la creatività ma sviluppa soprattutto un aspetto cardine della scuola di oggi che si sviluppa grazie all'autonomia scolastica che è l'interdisciplinarietà. La musica riesce ad entrare praticamente in tutte le materie, non solo per il codice musicale delle note, strettamente appunto quello delle note, ma anche per quelli che sono gli aspetti architettonici della musica, che hanno a che fare, che apperiscono con la sfera per esempio del crescere, del decrescere oppure dell'effetto sorpresa. Che possiamo trovare in materie ovviamente artistiche come nell'arte figurativa, nella letteratura, nella matematica e anche praticamente nelle materie più tecniche. E sviluppare la creatività assolutamente sì, perché praticamente riesce in qualche modo a essere un veicolo per i ragazzi dei loro messaggi più intimi e per quello che loro praticamente vogliono portare a conoscenza e quindi a esternare. Diventa appunto poi un aspetto anticolo del valore della materia, cioè diventa appunto medicina dell'anima perché riesce a curare il proprio animo di ognuno di noi, sia di chi fa musica e di chi ascolta musica. Ecco, diciamo che lei dirige anche l'aerorchestra, un'orchestra di sole chitarre, dove il lavoro di gruppo è fondamentale. Quest'approccio che in ambito educativo potremmo definire di cooperative learning, potrebbe essere una via per imparare ai alunni a lavorare insieme in modo piacevole? Sì, assolutamente sì. Io ho avuto nella mia esperienza, quella di voler organizzare un'orchestra di chitarre, che è un po' uno simolo, perché è qualcosa di atipico. Però l'idea qual era? Era mettere insieme i ragazzi e sviluppare il terzo stadio della musica, cioè la parte performativa, perché c'è lo studio, c'è la ripetizione, che è doveroso, no? Come aspetto in una disciplina, in una materia che è una disciplina. Però bisogna in qualche modo far vivere l'esperienza della musica e degli alunni, quindi di metterli davanti, per esempio, a un pubblico, di metterli magari su un palco e renderli protagonisti in un'esibizione. E mentre nello sport, giustamente nella maggior parte dei casi, se non sempre vince chi arriva primo, in musica quando si lavora insieme si vince se si arriva tutti insieme. L'aspetto della cooperazione è fondamentale, a mio vedere, perché mentre nella collaborazione può esistere una competizione, nella cooperazione si lavora tutti insieme, affinché tutti insieme si arrivino allo stesso risultato. Quindi succede anche che si vanno a compensare delle piccole lagune dei compagni o di compagni di reparto praticamente dell'orchestra per arrivare tutti insieme allo scopo, appunto, della riuscita del brano e della musica, ovviamente. Quindi è di fondamentale importanza sviluppare l'aspetto della cooperazione di learning, non solo per gli aspetti tecnici, ma anche e soprattutto per sviluppare gli aspetti pure più emotivi, quindi coinvolgere i ragazzi e stimolarli e farli sentire parte di un gruppo, ovviamente. Ecco, il professor Uto Uchi ha più volte sottolineato il problema di una maggiore importanza della musica a scuola, ma ha anche affermato che è un'arma a doppio taglio. Se insegnata bene risulta un valore importante per la crescita di ogni singolo alunno, ma se insegnata male può risultare distruttiva. Qual è il giusto approccio da adottare? Allora, quello che dice il maestro Uto Uchi è bellissimo, cioè trova che... io da parte mia lo trovo vero, cioè è giusto quello che dice. La materia della musica è qualcosa di fondamentale, qualcosa anche di vitale, però non si deve soffermare, o perlomeno io cerco di non soffermarmi soltanto all'insegnamento del codice, cioè note, durata e quindi all'esecuzione, perché la musica ha aspetti, ha tanti parametri da sviluppare, come l'ascolto, come l'analisi musicale, come, ecco, abbiamo parlato anche prima dell'interdisciplinarità, e sviluppare appunto queste conoscenze, queste abilità fa sì che poi ogni alunno, ogni ragazzo, ognuno di noi, anche al di fuori della scuola, ha delle competenze da poter sviluppare in musica, come per esempio, ecco, riconoscere se c'è un brano, c'è una crescita, oppure c'è una decrescita, sia a livello di volume del pezzo, oppure a livello di inserimenti di strumenti in un momento particolare della musica, o se c'è un effetto sorpresa. Quindi l'insegnamento della musica deve essere qualcosa che va di larga veduta, cioè che deve sviluppare l'alunno al centro della materia, ed essere il più possibile pronto ad apprendere quelle caratteristiche che la musica ci invita a conoscere. Cioè, Boezio diceva che la musica è intorno a noi, e anche se usciamo fuori di casa e sentiamo il vento passare tra gli alberi, oppure sentiamo in lontananza un campanile, anche quella è musica, sta a noi aprirci il più possibile a messaggio musicale che non deve essere fatto soltanto di codici e quindi di conoscenze. E poi è vero, assolutamente, io non ho una ricetta in tasca, Fabio, cioè ogni volta dobbiamo metterci in gioco e essere in grado di coinvolgere e anche coinvolgerci con gli alunni, quindi in quelle che sono le loro esigenze musicali e quindi poi portarle il più possibile a una questione anche filosofica, praticamente, ma che possa tornare utile sempre, nella vita di tutti i giorni. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Il dominio musicale è fortemente interconnesso con altri domini, come ad esempio quello linguistico e quello cinestetico. Nel ballo il corpo si muove al ritmo di musica, ma anche quando facciamo attività fisica, ascoltando una canzone ad esempio, si tende ad adottare il ritmo della musica che si sta ascoltando. Ci aiuta a capire quanto sono importanti questi aspetti per lo sviluppo della persona? Sono fondamentali a mio vedere, Fabio, perché io ho fatto della musica e degli aspetti della musica, una filosofia di vita, anche una filosofia politica. Io nel leggere, praticamente, nel studiare in conservatorio, io ho studiato in conservatorio di Cineorefici di Frosinone, ho conosciuto praticamente un pedagogista che è Boris Forena, negli studi, e lui parla praticamente dell'utopia possibile, perché tramite la musica noi possiamo sviluppare quelli che sono dei temi cardini della scuola, ma guarda caso anche della vita di tutti i giorni, e mi viene da pensare a quello che è il tema dell'accoglienza. L'accoglienza, lui parla di modulazioni musicali, modulazioni culturali, cioè che dobbiamo essere in grado di aprirci e di riconoscere le diversità culturali e accoglierle e anche allo stesso tempo di parlare delle nostre conoscenze culturali. E quindi questo aspetto fa sì che sviluppi più possibile l'accoglienza scolastica e sviluppa in qualche modo anche l'aspetto di una cultura, di una scuola democratica e innovativa. Cioè pensare una vita per la musica è qualcosa un po' di antico, però pensare una musica per la vita può essere qualcosa che ci aiuta a capire come la musica veramente deve essere presente in tutti i giorni, in tutti i momenti per ognuno di noi. Come hai detto tu, quando facciamo sport, quando casomai siamo nella vita di tutti i giorni e possiamo ascoltarla anche se stiamo facendo altre cose, oppure nel momento che facciamo puramente ascolto. Ma anche nell'ascoltare un bambino che praticamente sta parlando e ancora non riesce a scandire le parole, lui sta facendo musica. Nell'arte oratoria si fa musica. Quindi quando nasce la musica, beh, la musica nasce nel momento in cui poi già il parlare si fa teso ed emotivo. Quindi questo vuol dire che sta a noi aprirci il più possibile al messaggio musicale e a quegli aspetti che la musica educa praticamente ognuno di noi. Se facciamo questo, secondo me possiamo vivere anche meglio e stare anche meglio tutti quanti insieme soprattutto. Grazie, professor Miranda, per essere stato con noi. Grazie a te, Fabio.